La Corte d'Appello di Reggio Calabria, poiché il procedimento in questione si caratterizza per la non comune complessità e la delicatezza delle vicende trattate, ha chiesto una proroga di ulteriori 90 giorni per depositare i motivi della sentenza di secondo grado a carico di Mimo Lucano e che si sindaco di Riace, conosciuto in tutto il mondo, per aver dato corso ad una sperimentazione del sistema di accoglienza dei migranti giunti nel piccolo comune della Locride nel corso di questi anni. Lucano era stato originariamente condannato dal Tribunale di Locride nel 2021 a 13 anni e due mesi di reclusione per una sfilza di ipotesi di reato che nell'ottobre scorso la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha completamente cancellato combinando all'ex sindaco di Riace una sola condanna con pena sospesa a un anno di reclusione per ipotesi di falso a fronte dei 19 capi di imputazione originari. A Mimo Lucano, difesso da Andrea D'Acqua e Giuliano Pisapia, i giudici di primo grado avevano contestato la gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel piccolo centro della Locride attraverso un'azione illecita di accaparramento delle risorse pubbliche per la gestione dell'accoglienza dei rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR, sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati, CAS, centri di accoglienza straordinaria e ancora minori stranieri non accompagnati per l'affidamento dei servizi da espletare nell'ambito del comune di Riace, reati cancellati in appello.